La massima unione tra la musica e il teatro, e quindi la massima espressione di quello che l'Accademia si è previstata di raggiungere, il connubio tra le due arti, la musica e il teatro, signori e signori, Lina Tassari, buonasera, sono molto contenta di essere qui con questi ragazzi, con questi bambini, con questi ragazzi, con queste ragazze, con i giovani che studiano la musica, che mi sembrano belli, semplici ed emozionati di stare su un palcoscenico e non davanti a una telecamera, quindi sono molto felice. Grazie 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 ragazzi Grazie Grazie a voi.